Benvenuti a questa prima registrazione di prove del canale YouTube di Patrie Furlane. Un saluto a tutti gli amici Furlans e a tutti i due fasi di questa settimana. Una è la nomina del nuovo governo di Roma e la seconda è l'episodio del Presidente della regione in discussione della bilancia regionale. Tocchino del nuovo governo. E' una novità che sicuramente non può anche parlare in Furlans. Considerando il fatto, la nomina del nuovo ministero per coesione territoriale. Non è un ministero che è rivolgito alle regioni, ma è un ministero che ha garantito la coesione delle unità statali italiane e in particolare al rilancio del Mese d'Italiano. Chi sta a lui dire che continuerà il prelievo fiscale delle regioni più produttive delle Repubbliche Italiane e tra chiesti in particolare anche il Friul si continuerà a chialare, a spingere, a politiche a favore del meridio italiano e sicuramente continueranno le tendenze di politiche accentradore che già le ministri boschi avevano inviato con il prenguviare Renzi. Quindi, se le domande che si era fatte anche noi di Patry Furlane con il no al referendum del 4 dicembre e l'Archel proprio di un no per rivendicare poi l'autonomia, le risposte dal governo Gentriloni lo sta proponendo anche noi, poi centralizzando. Vi vedremo in questi prossimi settemani le novità che saranno anche ora. Sul secondo fatto, ho invece in corso di discussione della bilancia regionale della sua esposizione in particolare da diversi componenti dell'opposizione ma anche del suo partito, il PD che avevano domandato proprio dai saracchiani riguardo al suo futuro. dal corso di questa risposta il presidente ha avuto una crisi dignaia e si è emetuto avanti, accusando l'opposizione dei suoi colleghi di partito di fare una serie di attacchi, nome personale, rivendicando il suo ruolo che si è tanto spenduto in favore di chi sta tirando e dicendo che si sente discriminato dal fatto che è femmina e che non gli è assoluto di chi sta tirando. Non di Patrifurlane, io rispondendo direttamente ai saracchiani che se no, noi vienem fare degli attacchi, non sono stati mai attacchi personali ma in nome di attacchi politici per il suo ruolo di presidente della regione in Prince e secondo per il suo ruolo di vice segretario del PD e in particolare per questo perché il PD in questo tre anni sta delle più grandi disgrazie che si è dicapitate a chi sta tirando dopo l'estate del Taramotto. I risultati vengono tuttiasi con mano con le varie riforme che sono stati sperimentate nome per mostrarsi più bene lì a Roma ad amici nostri. Noi pensiamo che aveva di sé un confronto con il territorio, aveva di sé il coraggio di farlo non nome con i sindici ma sorreddito con i territori e con le popolazioni. che non è stato fatto. Il presidente si è sempre dimostrato che il suo partito con un'arroganza assoluta, qualcosa che per noi furlano non è una roba abituale. Non si è abituato, anche se ogni tanto si chiama di Stuart tra di noi, ma si è abituato a affevelarsi, a confrontarsi e sorreddito non tolerem le decisioni che siedono tutti sulle nostre chiave e sorreddito non vogliamo che le stia pedino chi altri per noi. Grazie a tutti.